Barbanera, ecco il vero Lunario Barbanera! All'inizio del 1934, il popolaresco Lunario Barbanera di Foligno pronosticava l'avvento di un anno brutto, poiché sommando l'1, il 9, il 3 e il 4, si aveva in totale un numero in fausto il 17. Questa era ovviamente una generalizzazione, una facezia che gli eventi nella realtà non smentivano completamente.